Una medaglia ha sempre due facce, due lati, e lo sbaglio più grande che una persona possa fare è quello di giudicare un libro dalla copertina. Ci sono due tipi di persone, c'è chi vive e chi sopravvive. Ci sono quelli che perdono tempo senza avere le idee chiare, senza obiettivi, pensano a commentare sotto i post delle persone per pura gelosia, pura frustrazione. Poi ci sono quelli come noi, come me. Non ho un lavoro ma lavoro, mi tengo occupato. In questo mondo mangi o verrai mangiato. Quindi quando mi chiamano e chiedono Mambo, cosa stai facendo? Rispondo Facendo faccende. Chavo Grazie a tutti.